Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi volevo parlare di un prodotto un pochettino particolare, sempre disneyano ovviamente, in particolare della trilogia da brividi. Questo è il cofanetto che è uscito recentemente, che contiene, in questo momento è vuoto perché ce li ho qui, perché adesso ve ne parlo di tutte e tre, anche se più nello specifico vi parlerò dell'ultima uscita di Duckenstein, che ancora non ho avuto modo di parlarvene, ma va bene così. Questo qui è il cofanetto, come potete vedere si tratta di un cofanetto di cartone, abbastanza rigido qui, su questo lato qui, un pochettino più morbido di qua, ma del resto qua è aperto. C'ha un, qui come potete vedere, è a V per permettere l'inserimento e la fuori uscita degli albi decisamente in maniera più fluida e più agevole, e devo dire che la cosa mi è piaciuta molto molto molto. Visto come sono fatte le costine di questi albi, io preferisco di gran lunga tenerlo da questo lato qui, con tutto nero su scritto trilogia da brividi, però ecco, si tratta di un gusto prettamente estetico e poi vi farò vedere man mano, quando lo riempiremo, come sarà la uscita di questo albo qui. Unica cosa, dicevo nel video del, quando ho fatto la live su Moldrop, ve lo dicevo, mi è successo un incidentino, l'avevo pochettato su una sedia dentro lo zaino, mi è caduto lo zaino e ha battuto. Quindi il cofanetto in questo angolino qui si può vedere che è lievemente ammaccato. Niente di grave, ho intenzione di tenere, o niente di grave, insomma, non si è rimpicciolito, non si è fatto niente, a parte quella piccola ammaccatura, si è fatto più male il cartonato di Dackenstein, purtroppo. E lì, colpa mia, c'è poco da fare. All'interno di questo albo, all'interno di questo cofanetto, che io ho acquistato vuoto con solo Dackenstein, perché avevo già le altre due storie, ma è possibile, il prezzo di questo qui era 15 euro, 14,90. Ok, è possibile recuperarlo al prezzo di 30,34, non dovrebbe essere, era il prezzo di copertina, quindi 9,90 per 3 più 5 euro, se non ricordo male, quindi arrivava sui 34, effettivamente. Mi ricordo 34, ma non vorrei dire una sciocchezza, quindi magari sotto in descrizione vi lascio il link e vi schievo il prezzo, comunque tra i 30 e i 34 euro. Al suo interno potevamo trovare, nel cofanetto completo, lo strano caso del Dottor Ratzky e di Mr. Hyde, con la nuova copertina, quella che si poteva un attimino intravedere qui, che vede Paperino e dietro le spalle la sagoma della testa di Topolino. Io ce l'ho nella prima edizione in cui è uscita, perché l'ho ordinato appena è stato annunciato, anche perché era stato annunciato con solamente le matite, quindi è l'unica storia che si presenta in bianco e nero. Anche la nuova edizione è in bianco e nero, quindi se no avrei acquistato il cofanetto completo, molto probabilmente, perché a colori la storia rendeva veramente tanto tanto tanto. La storia, questa qui, è tra le tre e la mia preferita, perché si indaga sullo spirito Disney nella sua totalità, quindi tutti i suoi personaggi sono coinvolti, sia i personaggi tartufati, che quindi Topolino, Pippo, Minni, Basettoni, sia i Paperi, Paperino, Zio Paperone, Quico Qua, tutti quanti sono presenti, e una storia del genere è ben scritta, ben sceneggiata da Bruno Enna per gli ottimi disegni di Fabio Celoni. In conclusione a quest'albo ci sono delle testimonianze da parte dei due autori e una serie di sketch dei disegni preparatori fatti da Fabio Celoni, per l'appunto il disegnatore della serie. E mettiamo via il primo albo. Il secondo albo che possiamo trovare è Dracula, ovviamente parodia della celebre storia di Bram Stoker. Qui invece abbiamo la storia a colori, con i colori di Mirka Andolfo, e qui Mirka Andolfo ha fatto un lavoro spettacolare. Ci sono anche alcune immagini in quella solamente a matite, che negli altri due albi non ci sono, molto ben fatte sempre da Fabio Celoni. La storia prendeva come spunto, se in questa storia qui il tema del doppio, quindi del bene e del male, è diventato la diversità tra paperi e topi, qui l'elemento della morte, del sangue, rappresentato da Dracula, sono stati resi in una maniera levemente diversa, più spiritosa, tramite la barbabietola. Una storia che quindi risulta ilare, lì dove serve, ma estremamente drammatica. In alcuni momenti ci sono delle scene che sono veramente di forte impatto, e anche impatto emotivo, per chi conosce i personaggi, per chi li ha amati, però ovviamente non si travale, che non si va oltre certi paletti piuttosto rigidi imposti dalla Disney, ma Bruno Enna è stato capace, quindi con questo escamotaggio della barbabietola, di parlarci anche di temi forti, quali la morte, però senza superare a girare quei paletti. Anche qui abbiamo delle testimonianze, in realtà abbiamo quattro pagine dedicate a Bruno Enna, che ci spiega un attimino la genesi della storia, e due pagine interamente dedicate agli sketch di Fabio Celoni, che magari vi faccio vedere, che sono veramente splendidi. Cioè ci sono solo gli sketch con giusto due righe in qua e là, alcuni sketch preparatori, e anche questo mi parso un'ottima storia ben riuscita. Ma veniamo a l'ultima storia, che è Dackenstein, di cui ho messo anche la copertina, quindi era chiaro che avrei parlato di quest'albo qui. Ecco, questo è quello che si è rovinato di più, come si può evincere qui, ed è la macchetta, qui si è proprio rotto un attimino, però ecco, si è un pochettino schiacciato lì, fondamentalmente non si è fatto nient'altro. Protagonista della vicenda è Paperino, Victor von Dackenstein, ideatore di una misteriosa creatura che vediamo qui, raffigurata in copertina. Anche qui, come in Dracula c'è l'espediente della barbabietola, qui l'espediente è quello di utilizzare il cartone che viene reso animato, Victor von Dackenstein idealizza i cartoni animati. Questo che dovrebbe essere uno spoiler, in realtà viene detto, viene mostrato nel corso della prima parte della storia, e prima della metà fondamentalmente, quindi ok, spoiler sull'espediente usato, però lasciatemelo dire. Il resto della storia, devo dire, è molto ben congegnata, è l'unica dei tre che ho letto in occasione di fare questo video qui. Di Dracula ho riletto gli articoli, giusto per vedere cosa dicevano, e all'interno di questa storia qui abbiamo un buon adattamento, non lo saprei dire, non ho letto il Frankenstein di Mary Shelley, però Bruno Henna sembra piuttosto soddisfatto di quello che è riuscito a creare all'interno di questa storia. Una storia che parla di diversità, di paura dell'altro, rappresentato in questo caso dalla nostra creatura. Nell'opera di Mary Shelley è un non morto, quindi qualcosa che veramente va oltre, fa paura. Qui ovviamente è un cartone, però anche qui fa abbastanza paura a diversi protagonisti della vicenda. Anche un ragionamento sullo scorrere del tempo, sempre presente all'interno di questa storia, soprattutto all'inizio, con un paperino, un Frankenstein per l'appunto, che vuole immortalare, fermare il tempo, renderlo bello in eterno fondamentalmente, ma che si deve scontrare con le intemperie, con la fatica e con tanti altri elementi che e il tempo scorre, il tempo passa, non si può rimanere giovani in eterno. Ed è una tematica che, insomma, è abbastanza pesantina da presentare in un albo Disney, eppure Bruno Enna riesce a farlo con estrema facilità, codiovato dagli ottimi disegni di Fabio Celoni. Qui vi faccio vedere giusto la prima tavola, ed è veramente, anche questa storia qui, mi è piaciuta tanto tanto tanto. Non conosco l'opera originale così bene da dire è stato fatto un buon adattamento, però magari se voi l'avete letto potreste tranquillamente dirmelo, segnalarmelo. Il prezzo di copertina single, anche qui sul fondo abbiamo quattro pagine di Bruno Enna con alcuni schizzi, alcuni disegni di Fabio Celoni e uno sketchbook di Fabio Celoni di due pagine, ve lo faccio vedere, molto molto bello, molto interessante, a me piacciono queste cose qui. E in definitiva si tratta di un'ottima, a mio parere, un'ottima parodia, un'ottima delle nuove parodie che vogliono essere parodistiche, sì, ma trattare temi forti e soprattutto cercando di rimanere il più aderente possibile all'opera originale. Cosa che secondo me Bruno Enna e Fabio Celoni, ecco qua quello che compare come costina, sono riusciti sapientemente a fare in questa trilogia da brividi. Ve li consiglio, sì, per me sono tre piccole perle, tre piccoli must have, da avere o in questo formato qui, per praticità se vogliamo, anche per vedere le tavole in un formato molto più ampio, molto più grande, rispetto a quanto non sia un topolino, che questo qui è un topolino, questo è il cofanetto, quindi per darci un'idea delle dimensioni, insomma, per quanto questo qui sia comunque uno strumento valido, qui le tavole vengono proprio esaltate, ma soprattutto qui ci sono questi editoriali, questi approfondimenti fatti dagli autori, che sono molto molto gradevoli. Ammetto che il prezzo di copertina potrebbe spaventare, si tratta di 10 euro, 9,90 euro per ogni singolo albo, col cofanetto è possibile trovarlo praticamente senza sconto, ma al prezzo dei tre albi più il cofanetto che costerebbe 5 euro, ma è possibile recuperare anche Duckenstein col cofanetto al prezzo di 15 euro, 14,90 euro, cosa che io ho fatto, visto che Raticleide già ce l'avevo, e non aveva senso ricomprarlo, quindi ho acquistato a parte Dracula di Bram Topker. Detto questo, penso di aver detto tutto quello che avevo da dire, il mio consiglio ve l'ho già dato, noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale, e sì, giustamente, se vi sono piaciute queste opere in originale, secondo me vi piaceranno anche le parodie, oppure se siete come me, una volta lette queste parodie, probabilmente vi verrà voglia di leggere le opere originali, io per Frankenstein aspetto di avere del tempo, perché volevo prima finire di leggere la saga di Geraldi Rivia, il Witcher di Sapkowski, ma non ho mai tempo e mi mancano due libri, quindi dopo quelli probabilmente recupererò anche il Frankenstein di Mary Shelley. Detto questo, noi ci vediamo davvero ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!